Cosa c'è? Eh, non bisogna andare a destra! Ma stendi giù! Ale, vieni qua, poi tagliamosi là dopo! Così siamo tutti insieme! Vai giù, stai davanti! Giù per la massima perdenza! Non c'è nessuno! Sì, n'è chi m'è? Che metto l'armonia! Cosa c'è? Gli servo! Non mi fa da fuoco. Grazie a tutti.